Oggi abbiamo inaugurato la Brebemi, era impossibile prima dare un giudizio, qualcuno l'ha dato, io dico molto prematuro, perché oggi abbiamo liberato finalmente questo pugile che aveva le mani ammanettate dal ring e possiamo chiedergli di vincere l'incontro. Con l'accordo con la 4 aumenterà ulteriormente il traffico, la Brebemi ha un senso se tutte le connessioni sono aperte, oggi abbiamo inaugurato quest'opera da 47 milioni di euro, ma la cosa più importante è che la Brebemi sta portando centinaia e migliaia di posti di lavoro lungo il tracciato. Imprese nazionali e internazionali stanno investendo qua perché siamo a 30 minuti da Milano e a 30 minuti da Brescia e abbiamo migliorato la viabilità tra l'est e l'ovest della Lombardia. Devo dire che la Regione Lombardia consegna dopo 5 anni un grande lavoro perché in questa legislatura noi abbiamo inaugurato la TEM, un pezzo di Piedemontana e la Brebemi. Credo che la Regione Lombardia abbia fatto molto per le infrastrutture di questa Regione. Questa è una seconda partita che noi stiamo costruendo insieme ai nostri sindaci, presidenti delle province, insieme al governo stesso e all'ANAS. È chiaro che le province non possono più farle perché hanno perso la loro disponibilità economica a causa dei tagli del governo. Allora ci faremo carico noi di Regione Lombardia di sistemare le stade provinciali. Io penso che oggi la Lombardia non inaugura solamente un'opera ma dà un segnale a tutta l'Italia. Qui le cose si fanno, le opere si fanno, le infrastrutture si fanno e si fanno bene. La Lombardia deve essere un esempio per tutto il nostro paese perché da qui oggi c'è un segnale di speranza.